Musica Bello a tutti ragazzi come va? Spero bene qui Pepe e benvenuti ancora in uno dei miei video Come potete vedere siamo su Battlefield Hardline e dopo aver giocato una partitella su Battlefield 4 con l'F2000 Eccoci qua su Battlefield Hardline con l'F2000 Dai partiamo subito equipaggiato solo con il Merino Cobra Vai amore aspetta un po' una squadra Mannaggia ogni volta mi mettono sempre da parte Qua non posso entrare Uniamoci vai Andiamo sul punto V Chi crepa vai Dai vabbè se rimaniamo tutti qua però ragazzi Dove sono? Mannaggia due Dai Oh Una cosa Che ha preso in questi giorni di Battlefield Hardline Che è tutto fluido che si apporta Battlefield 4 Ohia Quello con l'M320 Bobby Bobby Andiamo a prendere i punti Dai Sembra che abbiamo esterminato il mondo Eh guarda tu I poliziotti sono andati Manteniamo la posizione Dai Quest'arma ragazzi è stata aggiunta con l'ultimo DLC Robbery Ed è molto potente Allora io lo rialmo Lui spara a lui e poi E poi l'ucido io Questa è la mia tattica A volte Bisogna sacrificare I compagni ragazzi Che fare Oh Quello come è morto là Poi ci sono le scale Ahah Al volo Ah in più Mi sono pure confused Eeeh Strono Aiaiaiaiaiaiaiaiai Amico Tranquillo Non ci credo Avete visto come volevo fare il furbetto Veniva zitto zitto tranquillo E tutto il colpo è morto Ed è morto Quello non faccio marcia indietro Stava facendo marcia indietro Stava facendo però Bella App in testa niente Sti cavoli di quartelli ragazzi Non riesco a utilizzarli Resistiamo dai Ok prendi curati Dietro dietro dove dove Guarda il cavolo è Oh e quanti ce ne sono Quello mi ha sfuggito Quello mi ha sfuggito Quello l'ho ucciso Aspetta l'ho ucciso pure Aspetta aspetta mi dispiace di non essere venuto prima Eh scusami È stato un bugger field No Per poco per poco Bella pete Ottima difesa Questo punto ce l'avevi nel sangue Ok la A sinistra ce n'è uno Ciao Oh nemmeno Oh 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 Grande Che è? Ah ma tu sei un nemico Bella vai Che magello che stiamo facendo in questa mappa ragazzi Andiamo sul punto E Grazie a tutti no mi aspettava grande amico e va bene ragazzi dai dopo questa fantastica serie ci fermiamo con un bel score 35-6 e non voglio rovinarla perché sono sicuro che se gioco non mi uscirà mai più una bella serie così e niente che dire che quest'arma in Battlefield Hardline è super cittata ragazzi gli nemici cadono come delle mosche niente per questo video è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video ciao belli alla prossima 1 2 6 4 5 6 7 20 ordici ce ne sono là dentro